Giorgia ma sei pronta? Sono prontissima, tu sei pronta? Ma che domande ovviamente sono pronta, ma tu sei veramente pronta? Sono prontissima, ma tu sei veramente, 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 veramente pronta? Cazzo sono pronta, iniziamo! E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video! Ragazzi, oggi video speciale perché siamo qui con la mia primissima food challenge del canale in compagnia della signorina, ovviamente, Queen Giorgia. Saluto un po', dai, forza! Sì, scusa un attimo perché ho da fare... E ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti! Niente, questa fa le cose mentre io faccio la intro, ragazzi, non ho veramente parole. Allora, fammi spiegare come funzionerà questa challenge perché sarà una challenge veramente prelibata. Ti vado a spiegare ragazzi come funzionerà questa challenge super succulenta. Andremo a fare ovviamente una sfida su Fortnite dove ogni volta che andremo a fare una kill, la persona che appunto ha fatto la kill dovrà mangiarsi un qualcosa di molto prelibato. Voi ovviamente l'avete visto già dal titolo e dalla miniatura, ma diamo ragazzi il benvenuto al cibo degli dei. Il sushi, ragazzi, i fantastici nigiri, che peraltro vi do un piccolo spoiler, a Giorgia il sushi fa veramente schifo. Oh, è il mio fottuto cibo preferito! Allora... Non direi... Falsi informazioni, per favore, grazie. Dice che questa era falsa testimonianza e disinformazione. No, no, non si tocca il cibo, ok? No. Hai ragione, il sushi non si tocca, ragazzi. E come vedete qua abbiamo dieci nigiri di tonno che spetteranno alla signorina Giorgia perché a lei piace il tonno e dieci nigiri di salmone scottato che io li amo. Bene, direi che la challenge può iniziare, no? No, io direi che ti fermi intanto un attimo e mi dai del cibo perché io qua non ho nulla. Se te li tieni di là... Allora, vieni in camera mia, hai tre secondi. Uno, due, tre... Entrate in camera, ragazzi. Cosa fai la Naruto Run? Vieni qua, odora, fai vedere che profu... Cazzo, grida! Bene, fila via, vattene, tanto la soia ce l'hai già. Guardate qua quanto sono belli i miei nigiri. Pronta a mangiarli tutti. Che ho pagato rigorosamente io, ragazzi. Ma comunque, prima di cominciare con i video, ragazzi, mi raccomando, spolliciate più non posso, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo che io sono in live tutti i giorni sui miei canali viola dalle 17 in poi e anche la signorina qui in Giorgia. Quindi trovate il mio canale e il suo canale qui sotto in descrizione. Passate anche solamente, ragazzi, per salutarci. Noi vi aspettiamo. Ma la domanda è... Sei pronta? Prontissimo, la fanno adesso, cazzo! Sei pronto, ho detto, cazzo! Prontissima! E allora, andiamo su Fortnite, ragazzi, e speriamo di mangiare tanto sushi. Andiamo. Prima partita, io direi che dobbiamo fare delle kill perché ho fame. Andiamo a Crocevia, che dici potrebbe starci. Beh, è bello cazzuto, è Crocevia. Centro mappa. Allora, Crocevia andiamo su dirigibile. Io te lo dico, voglio fare tante kill perché ho una fame bestia. Anch'io, ho bisogno di ingozzarmi di righiri. Ma mangio io? Ma è che mi frega che tu non mangi, scusami. No, no, mangio io, quindi le kill le lasci a me. Mamma mia il loot. Sto per rosicare. Mi ha scappato uno. Io mi sto fullando di shield perché qua... Mi accade uno! No, 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 no. Allora, un è noccato e un'altra sopra. Sono due però. Ah, è stato noccato dei bot. Dietro, 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 dietro. No, muoio, 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 muoio. È stato arrestato? Questo qua era one shot. Sì, è stato arrestato. No, non ci credo, ragazzi, è stato arrestato veramente. Ma vero? No, mi arrivate la kill, mi arrivate la kill, mi arrivate la kill. Mi arrivate la kill. Non ci credo. Però aspetta a mangiare, però aspetta a mangiare, aspetta a mangiare. Scendo anch'io. È il cararmato. Io devo mangiare il pezzo di sushi, cavolo. No, sono i bot, sono i bot. Devo mangiare il sushi. Vai, mangio, mangio, mangio. Ok, raga, starto un po' strano. Ok. Pezzo di sushi. No, infame. Siamo, ragazzi. Primo pezzo di sushi di Mighiro col salmone. Ho i bot che mi guardano. Mi sono colpiti i bot! Ti sono colpiti, morì, non posso morire. Com'era? Non mi credo. Non mi credo, no. Ma io, secondo me, sono camperati ancora dentro il coso, perché non è possibile. Sì, sono qua, infatti. Salgo? Questi sono camperatissimi, raga. Sono sopra. 104. Il socio. Fatto uno. No, l'altro one shot, non ci credo. Lo faccio, lo faccio, lo faccio. No, vabbè, ma l'hai lanciato tu l'impulso. No, lui. Pronto, fatto, fatto. Che ha ucciso, ucciso. Non era one shot. Aveva ancora, tipo, 100 KB. No, io ho fatto 104. 104 al mio one shot, che è quello che ho ucciso. Fatto uno. No, l'altro one shot. Vabbè, Giardina, mi scusi, perché parli ancora quando di mangiarti il primo sushi? Fai vedere che lo mangi. Pucciato nella soia. Ragazzi, è pucciato, eh. Ricordiamo, è pucciato. Il termine più utilizzato del mondo. No, vabbè. Com'era? Com'era? Vogliamo una reaction a caldo? Forza! La cosa più buona del mondo. Minchia, veramente. Tocca a me. Quando hai fame, poi. Tocca a me. No, vabbè. Perfetta sull'ala. E qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto, lo vedo, lo vedo, lo buscio. Vieni giù, vieni giù, vieni giù con me. Qua c'è l'altro, però. Vartuna! Bravissima. Voglio l'altro, voglio l'altro io, allora. Ciao. No, vola. Prendi la mia SMG, viola. La tua? Sì, non mi serve, non mi serve. È qua sopra, è qua sopra, forse. No, no, no. Sì? Sì, sì. Mi ha distrutto, mi ha distrutto, mi ha distrutto. Aspetta. Vado di impulso e sparo. Vai. Morto, morto! No, vabbè. No, no, tutti a te, tutti a te. No, sparo, arrivano con la zipline, di nuovo la zipline. Di nuovo la zipline? Vutto l'impulso e li faccio ballare via. Sono fatto ballare via. Mi sono salvata almeno. Sono salvatate, sono salvatate, sono salvatate, sono salvatate. 5, 105, laser atto, one shot. Fatto, vado, vado, vado. Finicelo, finicelo, finicelo. Barilla, 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 barilla. Metti barilla. Stiamo capendo le cose, ce le stiamo captando. Ottimo. Minchia, ragazzi, minchia, ragazzi. Ma va bene. Quindi, sono due, io e tu. Io ne mangio un al volo, tanto quello lì è sotto. Quindi me lo mangio al volo, proprio, è una fame che guarda. Vai, mangia. Ma non devi ingozzarti, non devi ingozzarti. Povero Nighiro. Mi sono, vai, mi sono. Dimmi la verità, comunque. L'idea di fare questa food challenge con le sushi, dimmi se non ho azzeccato. Dimmelo. Troppo, Kikia, troppo. Nighiro. Che buono. Zip line, zip line. Però, sei co... Eh, ecco, vola, vola, vola. È nato. Vai, 31 ha craccato, mi sa. 46. Guarda, sei, dincato. Dincato ancora. Guarda, c'è una scarica. Guarda, dopo headshot. No, vai, ciro, vai, ciro. Un altro Nighiro, guarda, un altro Nighiro. Un altro Nighiro, questa pavola, ci basta. Mi sto curando. Ok, scusami. Scudone c'è, no. Sì, sì, lì, lì, sopra. Vai, prendo Nighiro. Tranquilla, tranquilla. Forse è salito, eh. Eccolo qua. Fatto male. Distrutto. Intanto di nuovo. Bianco. Ultimo hit. Sclero. Bravista, bravista. Ma tu, guarda, sta mangiando. Ma tu, ma stai mangiando un casino. Ma lascia anche a me mangiare. Mamma mia, ragazzi, si magna, ragazzi. Questo è perché la vostra Coratomist ha fame e deve mangiare. E scendere. Possiamo andare tranquillamente tipo sul benzinaio, volendo. Li vedo, li vedo laggiù, li vedo laggiù. Laggiù, in fondo. T'erlo pingati, l'ho hitato 27. 27, 27 anch'io. 27 ancora, 27 carcato. Oh, cap. 27 white. Quindi, ultimo hit. Di qua, vieni di qua, vieni di qua, vieni qua. È qua che me, qua che me? Arrivo, eh, chi c'ha? Me la faccio io tranquillamente? Vai, 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 te lo lascio, non li sparo. C'è un altro, c'è un altro. C'è un altro, c'è un altro. Oh, cavolo. E' qua, è qua il campionato. Lo capisco? Guarda, tutto, 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 ho fatto tantissimo. Fatto, 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 fatto. Io mi mangio il nigiro al volo, scusa, tanto ti stai curando. Prendi il lanciarazzi, lascia il pompa viola. Fatto. Vieni sopra appena ci sei. È l'ultimo, è l'ultimo. È l'ultimo. Sì. Amò, amò. Amò. Chi vuole il nigiro, tu o io? Tu dai, sei tu. Ti lancio, vai, ti lancio, eh. Salta. 3, 2, 1, vai, salta. Te ne lancio un'altra. 3, 2, 1, salta, eh. Vai. No. Vado io? Vai, io lo guardo, io lo guardo. Guarda come scappa, guarda come scappa. Ha più forza di lui, però. Vai, vai, mangiati il nigiro, amore. Eccolo. Vinta il primo tra... E lo sai cosa? Devo mangiarmi il nigiro ancora di prima. Perché io non l'avevo mangiato. Tu e nigiri, posso dirti una cosa? Scusa, abbiamo winnato. Mi merito un nigiro in più. Vai, mancialo. Grazie. Ne ho veramente bisogno. Mamma mia. Attenzione. Nigiro della win. Mamma mia. Questo, ragazzi, è per la kill l'ultima. Allora, anch'io, subito, mangio anche l'ultima per la kill. Scusa, c'è la win. Per finire... Per la win. 8 kill. Quindi, 8 nigiri. Più uno della win. Più uno della win. Cioè, io non vorrei dire, ragazzi, abbiamo rotto il culo. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. E direi che come mia prima full challenge è andata benissimo. Cioè, amò, abbiamo winnato il primo game che abbiamo fatto di oggi. Infatti, assurdo. Subito win. 8 kill io. Tu quanti eri amici? 5, forse? Non lo so, mi avanzano 4 nigiri. Quindi ne ho mangiati 6, di conseguenza 5 kill. 5 kill, uno della win. Però, tanta, tanta roba, ragazzi. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, spolliciate più in un posto a questo video. Seguiteci, mi raccomando, sui nostri profili social in descrizione. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando. Detto ciò, ragazzi, dalla vostra Corato, Mr. Queen Giorgio è tutto. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella a tutti, ragazzi. Ciao.